Allora, Annalisa Agamennoni, finita questa due giorni di qualifica, come giudichi questo avvio di mondiale e che cosa ti aspetti dall'eliminatorio? È andato tutto bene, quello che mi aspetto per domani è di tirare ancora meglio. Rispetto alle avversarie che ci sono in campo, pensi di avere delle buone chance per raggiungere la semifinale? Sappiamo che Jessica Tomasi ha avuto accesso diretto perché è entrata tra le prime due, che cosa ti aspetti? Speriamo di essere competitiva, sinceramente non so come vanno le altre, se riesco cerco di impegnarmi io al massimo e basta. Quindi sulla tua prestazione punti, bene così, un grande in bocca al lupo. Crepi, grazie. Max, Massimiliano Mandia, abbiamo visto anche nel ricurvo maschile atleti di primissimo piano, come giudichi la prima e la seconda giornata di qualifica e anche per te che cosa ti aspetti? Nel complesso sono abbastanza soddisfatto perché sono riuscito a mantenere il mio tiro, quello che mi è dispiaciuto è che ho avuto qualche difficoltà nel capire qualche pendenza, soprattutto oggi il percorso era molto molto difficile, molto tecnico. E diciamo che ho peccato un pochetto in queste cose, cose che mi hanno portato via un bel po' di punti, che sono almeno oggi, mi sarei aspettato di fare un qualcosino in più. Quello che comunque mi conforta è il fatto di aver mantenuto il mio tiro, un tiro che mi dà le mie fiducia e questo mi fa ben sperare per domani. Grande in bocca al lupo anche a te, passo a Marco Morello. Per te, per quanto riguarda il tiro di campagna, è una stagione finora molto buona, per quanto riguarda naturalmente gli eventi nazionali, quindi con quali aspettative adesso hai affrontato questa prima fase di mondiale e che cosa ti aspetti anche te per le eliminatorie, considerando anche che è un mondiale che si gioca in casa? Sicuramente la stagione campagna fino ad ora è buona. Ieri ho lasciato qualche punto in giro facendo qualche errore di tiro perché ieri oggettivamente non era un percorso difficile, a differenza di oggi in cui c'erano dei tiri veramente impegnativi e anche il clima, il meteo oggi non ci ha aiutato troppo perché pioveva, smetteva, poi faceva il temporale. Quindi di ieri non sono contentissimo perché secondo me potevo fare una decina di punti in più e di oggi anche qua ne mancano dieci per essere con quelli di vertice. E con le eliminatorie riuscirai a scalare posizione e arrivare a queste semifinali? Una domanda un po' infima, però si tira per questo quindi sì, ci proviamo. Un bocca al lupo. Vado a chiudere con Andrea Leotta, nel compound, anche per voi giornata difficile, tanti atleti davvero di grande valore. Era importante entrare tra i 22, ci sei riuscito e anche scongiurato la possibilità di uno shoot off. Sì, assolutamente, è andata bene, ho avuto un po' di problemi durante questi due giorni con l'arco, però adesso le cose dovrebbero essere a posto, guardiamo avanti agli scontri. Come ci si prepara a questi scontri diretti? Considerando che poi è un nuovo regolamento, insomma, chi è abituato a fare field è abituato a un altro tipo di fase eliminatoria. Sì, sono tutti regolamenti nuovi che entrano per la prima volta da quest'anno, bisogna affrontarli come tutti gli scontri, mentalità giusta e tirare per buttarle dentro. Ragazzi, un grande in bocca al lupo a tutti voi! Ciao!